Mezzanotte 48, buonasera e benvenuti a quest'ultima edizione. Cominciamo subito con le parole pronunciate da Papa Bergoglio durante il volo di rientro dalla Polonia, dove è stato per le giornate mondiali della gioventù. Durante la solita conferenza stampa che ormai tiene a bordo dell'aereo, il Papa ha detto non è giusto né è vero parlare di Islam violento e di terrorismo islamico, allo stesso modo potrei parlare di cattolici violenti, sono parole molto forti che sicuramente alimenteranno discussioni. Continuando a sentire che cosa ha detto il Papa, in ogni religione ci sono gruppetti fondamentalisti, lo Stato che si definisce islamico ci si presenta con una carta di identità violenta, ma non è Islam, lo ha detto ancora Bergoglio. La giornata mondiale della gioventù si era chiusa con una messa a cui hanno partecipato più di milioni di ragazzi, non fatevi anestetizzare l'anima, è stato il messaggio di saluto del Papa che li ha esortati a non fermarsi alla superficie delle cose, diffidate delle liturgie mondane dell'apparire, ha detto del maquillage dell'anima per sembrare migliori. Queste le parole di saluto del Papa all'oltre milione di ragazzi che era andato a Cracovia per le giornate mondiali della gioventù, ma oggi è stata una giornata importante che potrebbe cambiare il corso di queste vicende che ormai si susseguono con sempre più frequenza degli atti di terrorismo potrebbero spuntare le armi ai predicatori dell'odio. È stata la giornata dei fedeli islamici nelle chiese in Francia e anche in Italia. Croce e Corano, la preghiera dell'imam e l'omelia del parroco. È la domenica che almeno nel suo intento deve celebrare l'unità di cattolici e musulmani contro il terrorismo dell'Isis dopo l'assassinio in chiesa del vecchio sacerdote padre Jacques Amal a Saint-Étienne du Rouvray. È cominciato tutto dalla Francia, dopo che il presidente del Consiglio religioso islamico della Normandia, Mohamed Karabila, ha dichiarato di voler negare la sepoltura a uno dei due terroristi. È molto importante e necessario essere qui fisicamente, dice in chiesa Karabila. L'arcivescovo di Rouen spiega di essere commosso. Siamo molto toccati dalla loro presenza, avverte Monsignor Dominique de Brun. Nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma, dal pulpito risuona la preghiera dell'imam della Magliana. La comunità musulmana in Italia ha seguito l'esempio della Francia. L'imam della moschea di Centocelle prende la parola e spiega che solo uniti si può sconfiggere il terrorismo. L'attentato è stato fatto purtroppo gridando Allahu Akbar. Le persone che hanno compiuto questi atti terribili non hanno a che fare con l'Islam. Sono scene che si ripetono in ogni città, da nord a sud, anche a Milano, in chiesa vanno tre imam. Da Cracovia arriva il plauso del capo della conferenza episcopale, il cardinal Bagnasco. Non sempre abbiamo sentito una reazione corale. Ora questo invece si sta creando. Auspichiamo che sia l'inizio di un percorso nuovo. E a proposito di questo ultimo barbaro omicidio, c'è una novità da un punto di vista giudiziario perché Farid Kappa, il cugino di Abdelmalik Petitjan, è stato incriminato per partecipazione all'attacco alla parrocchia di Saint-Etienne. Secondo gli inquirenti francesi, il ragazzo era a conoscenza del progetto di un'azione violenta imminente in preparazione da parte del cugino. Adesso ci occupiamo di quello che sta succedendo a Hillary Clinton, al Partito Democratico, agli atti di hackeraggio delle mail del comitato del Partito Democratico. Clinton si è scagliata con forza contro i servizi segreti russi che secondo lei sarebbero dietro queste azioni. Ha indirettamente accusato anche Putin di essere a conoscenza di questi tre tentativi, di questi tre atti di hackeraggio e ha accusato anche Trump per aver sostenuto Putin proprio in queste azioni. Vediamo. Non usa mezzi termini. L'intelligence russa ha hackerato le mail del comitato elettorale dei democratici. Così Hillary Clinton punta dritto contro Vladimir Putin per poi accusare anche il suo rivale, nella corsa alla Casa Bianca, Donald Trump, per aver mostrato un molto preoccupante sostegno nei confronti del presidente russo. Clinton declina parola per parola l'accusa nei confronti di Mosca nel corso di un'intervista a Fox News. Sappiamo che i servizi di intelligence russi hanno violato il sistema informatico del Comitato Nazionale Democratico e sappiamo che hanno fatto in modo di far circolare quelle mail. Il caso nasce dalle rivelazioni del sito Wikileaks che tre giorni prima della convention di Philadelphia pubblicava circa 20.000 mail scambiate tra i vertici del partito in cui era evidente il tentativo di bloccare l'eventuale ascesa di Sanders. L'FBI ha subito aperto un'indagine e in una nota conferma che sono in corso accertamenti su cyber intrusioni riguardanti diverse entità politiche. Nei giorni scorsi Trump aveva esortato Putin a trovare le mail sottratte a Hillary Clinton. Ero sarcastico, ha spiegato poi ai giornalisti. Nella Turchia dove continuano purghe depurazioni dopo il golpe di due settimane fa, oggi sono state chiuse tutte le accademie militari, dicevamo dalla Turchia arriva una minaccia neanche tanto velata all'Europa. Se non entrerà in vigore un nuovo regime, cioè quello che prevede l'eliminazione dei visti per i cittadini turchi entro ottobre, rivedremo e salterà molto probabilmente l'accordo fatto con l'Europa per la gestione dei rifugiati. Vediamo. Se i cittadini turchi non saranno esentati dal visto per entrare nell'Unione Europea, la Turchia non riconoscerà più la convenzione con Bruxelles sui rifugiati. A parlare il ministro degli esteri, Cavasoglu, in un'intervista al giornale tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, che ci tiene a precisare non si tratta di una minaccia alla Turchia, combattendo i trafficanti ha rispettato i patti e ha detto Cavasoglu e anche l'Europa deve farlo. La Commissione Europea però rigira ad Ankara la responsabilità. Da Bruxelles hanno fatto sapere che se la Turchia vuole la liberalizzazione dei visti deve soddisfare i criteri. La dichiarazione di Cavasoglu al quotidiano tedesco arriva proprio nel giorno in cui sempre in Germania a colonia 30.000 turchi sono scesi in piazza per manifestare in favore di Erdogan e contro il fallito, golpe del 15 luglio. Intanto Erdogan continua ad adottare misure che stanno cambiando i lineamenti del paese. Ha fatto sapere che da adesso l'esercito turco dipenderà direttamente dal governo. Grazie ai poteri speciali che lo Stato di emergenza assegna all'esecutivo è stato possibile chiudere le accademie militari ed espellere altri 1.389 soldati sospettati di aver partecipato al fallito golpe. Insomma, quell'esercito da tutti definito come custode della laicità dello Stato adesso sarà un appendice dell'esecutivo. Veniamo ai fatti di politica interna. Pieno sostegno da parte della sindaca di Roma a Raggi e all'assessore all'ambiente Paola Muraro da giorni al centro di una forte polemica per la lunga consulenza che ha avuto con l'azienda municipale dei rifiuti romana, Lama, che si occupa appunto di questo. Un presunto conflitto di interessi per cui le opposizioni con il PD in testa chiedono le dimissioni della Muraro. Sta facendo un ottimo lavoro, ha detto Virginia Raggi. Lama è stata appannaggio di PD e PDL per anni. Oggi vengono a fare polemiche e questo fa un po' sorridere. La sindaca ha detto poi che l'emergenza rifiuti e sull'emergenza rifiuti sicuramente riferirà in comune. E adesso ci occupiamo del mondiale di Formula 1, sempre più nel segno di Lewis Hamilton, la quarta vittoria consecutiva. Giornata da dimenticare invece per il rivale Rosberg, quarto il campione del mondo, ha vinto il Gran Premio di Germania grazie ad una partenza perfetta. Traguardo almeno 19 nella classifica piloti. La Ferrari non è mai stata in lotta per un posto sul podio, quinto Vettel, sesto Raikkonen, a conferma di una netta crisi di risultati. La squadra italiana è stata sorpassata nel mondiale costruttori dalla Red Bull, oggi sul podio appunto con Ricciardo e Verstappen. Lezzanotte e cinquanta sera, l'ultima notizia, l'informazione torna domani mattina alle sette. Arrivederci, buonanotte.